Oggi vi parlo della tecnica dello struzzo e di come questa strategia coinvolga tutte, tutte le persone che fanno una dieta. In realtà la tecnica dello struzzo è una strategia che utilizzano moltissime persone anche in altri ambiti o forse in alcuni casi per tutta la loro vita, ma in questo caso parliamo soltanto di quello che accade durante un percorso di remise in forma o comunque un percorso nutrizionale. Allora ovviamente, mi ripeto, per chi guarda questo video su Instagram lo guarderà parzialmente, può seguire laddove ci fosse interesse il video intero sul canale YouTube, per chi invece è dell'altra parrocchia lo guarderà per intero. Allora, in che cosa consiste la tecnica dello struzzo? Si è sempre detto, lo diciamo sempre, quando una persona non vuol vedere le cose, quando una persona non vuol conoscere la verità, quando una persona non vuol sapere quanti soldi ha sul conto corrente perché ha paura di leggere una cifra che non si aspetta, fa lo struzzo, cioè mette la testa sotto la sabbia, preferisce non sapere. Questo accade a tutte le persone che fanno la dieta, cioè arriva sempre un momento in cui si lasciano andare, un momento in cui non riescono più a tenere la barra dritta, un momento in cui non riescono più a seguire il protocollo, un momento in cui non riescono più ad essere costanti con gli allenamenti. E allora i demoni che abitano in ognuno di noi a vario titolo e a vari livelli, che abbiamo tenuto sott'acqua finché siamo stati rigidi, rigorosi, abbiamo rispettato le regole, stavamo facendo tutto quello che era necessario fare, cominciano a prendere il sopravvento. E questo succede quando o abbiamo raggiunto un obiettivo e quindi subentra quella presunzione che ci fa dire vabbè dai per una volta non succede niente, lasciamo che gli altri che abbiamo sempre allontanato ci dicano dai vabbè sei stato bravo per tutti questi mesi, se adesso bevi una birra in più o bevi un aperitivo in più che cosa vuoi che ti succeda. Lasciamo che gli altri dicano eh ma questa non è vita, è possibile che tu non ti puoi concedere una pizza quando non è consentita e quindi cediamo a queste lusinghe. Perché? Perché la nostra motivazione nel tempo è assolutamente normale che tenda a calare. E man mano che cala la motivazione aumentano i demoni. Quindi subentra a questo punto la strategia dello struzzo che è quella di far finta di niente, far finta che oggi è venerdì e quindi vabbè dai da lunedì. Vabbè dai se oggi questa settimana ho saltato l'allenamento cominciamo a dire bah effettivamente ero stanco, mi serve il riposo. Cioè cominciamo a frapporre tra la disciplina e lo stato in cui siamo tutta una serie di scuse che prima non avevamo neanche mai preso in considerazione. Allora questa è una strategia deleteria soprattutto per coloro che non sono assistiti, non sono seguiti. Anche noi vendiamo tanti percorsi automatizzati, vendiamo strategie di remise in form pazzesche che persone dotate soltanto, che sembra una cosa minima, di buona volontà riescono a seguire in autonomia perdendo decine di chili ogni mese. Ma noi sappiamo per esperienza quanto il supporto sia indispensabile nei momenti che inevitabilmente arriveranno. Certo se io parto con motivazione è difficile che il primo mese mi perda via, è difficile anche che il secondo mese mi perda via, man mano che passa il tempo e man mano che io mi sto avvicinando all'obiettivo è inversamente proporzionale la motivazione rispetto al rigore, quindi cala la motivazione e il rigore va scomparendo. Ecco perché ancora una volta l'assistenza, il supporto, la presenza di una coach, la presenza di un gruppo, la possibilità di fare delle coaching private è fondamentale in questi casi. Ma è fondamentale solo e soltanto se la persona che si trova in un momento di difficoltà decide di riemergere da quelle sabbie mobili e chiede aiuto perché molto spesso non è sufficiente avere il supporto, molto spesso non è sufficiente avere tutta una serie di gabbie di protezione per evitare di cadere nel baratro. Molto spesso la vergogna con noi stessi e la vergogna verso chi ci tende in continuazione la mano, quindi il mio team, il mio gruppo, io in continuazione, la vergogna di aver disatteso delle aspettative prima nei propri confronti e poi nei confronti di chi ci sta dando fiducia e si sta sbracciando per fare in modo che io possa raggiungere il mio risultato, fa sì che anziché far riemergere la testa dalla sabbia mobile la fa mettere ancora più giù. Quindi le persone si chiudono al riccio, evitano qualsiasi tipo di contatto, evitano qualsiasi tipo di sollecitazione che arriva dall'esterno, non rispondono alle coach, non partecipano al gruppo, non postano i video di allenamento, non condividono le esperienze e quindi si eclissano. Ed io avverto immediatamente quando sta entrando in funzione la strategia dello struzzo. Allora il senso di questo video qual è? Che sicuramente tutti noi nella nostra vita, non soltanto durante una dieta, quando ribadisco non vogliamo leggere l'estratto conto della banca, quando arrivano le bollette nella cassetta della posta e le teniamo lì chiuse perché non ci sentiamo pronti a capire, a sapere quanto dobbiamo pagare, tutti noi nella nostra vita in qualche modo abbiamo fatto lo struzzo. C'è chi come ho detto in apertura lo fa per tutta la vita e per tutte le sue cose, essere miserabili. Quando vi trovate in difficoltà e avete la possibilità di farvi aiutare, non vi dovete vergognare, non dovete pensare di aver fallito perché non c'è successo senza fallimento. Quindi evitate di cadere negli inferi perché poi la risalita è molto più difficile. Appena vi state rendendo conto di andare fuori dalla rotta, fuori dalla traccia, cercate aiuto, chiedete aiuto e noi siamo qui pronti a darvelo. Quindi se ancora non l'avete fatto questo discorso, tutti i miei clienti lo conoscono alla perfezione, ma ciò nonostante devo ribadirlo continuamente perché ci cascano anche loro. Ma per chi ancora non lo avesse fatto, per chi ancora non è il mio cliente, fate una consulenza gratuita in cui vi spieghiamo in che modo noi sosteniamo, aiutiamo e strategicamente supportiamo le persone che vogliono cambiare a 360 gradi. Quindi mandate un'email ad infochiocciolashapenowinternational.com, contattatevi in privato, io vi giro la mail dell'ufficio e non fate gli struzzi e ricordatevi che questo è un video per adulti, non per sciacquala attuali a tutti i miei clienti.